Fenomeni estremi come tsunami, alluvioni, ondate di calore, siccità e uragani si verificano quasi ogni anno con una forza mai vista. Scopriamo perché le colpe sono anche delle attività umane e il futuro non eroseo. Cambiamento climatico, inquinamento, distruzione degli abitato naturali, perdita della biodiversità, deforestazione e acidificazione di mari e oceani sono strettamente correlati all'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi. La lista degli effetti dell'impatto che gli esseri umani hanno sul pianeta è lunga ed è difficile da leggere. La comunità scientifica è concorde nell'indicare l'attività umana come aggravante, se non causa, dei disastri ambientali sempre più frequenti. L'ultimo esempio lo abbiamo visto di recente con l'alluvione dell'Emilia-Romagna. Perché il cambiamento climatico causa disastri ambientali sono quasi 3.000 i miliardi di dollari di perdite economiche stimate. Nel 2017 a causa del cambiamento climatico dall'UNISDR, l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio disastri. Una crescita del 151% in soli 20 anni, dal momento che nel 1998 si assestavano a 1.313 miliardi di dollari. L'industrializzazione, la crescita tecnologica e l'esponenziale sviluppo delle attività umane hanno portato a cambiamenti decisivi. Nei modelli meteorologici, con mutamenti a volte irreversibili nei climi locali e di vaste regioni del pianeta, per un effetto domino. Sotto gli occhi di tutti, il surriscaldamento globale. Più di 4 miliardi di persone colpite in 20 anni un circolo vizioso che ha imposto un nuovo corso alle stagioni, ma anche dato il la fenomeni più frequenti, intensi e disastrosi come uragani. Tsunami, ondate di calore, siccità, temperature medie progressivamente. Più alte, alluvioni, frane, tempeste. La conferma arriva anche da MDET, il database globale che traccia le catastrofi meteorologiche, negli ultimi 20 anni gli eventi meteorologici estremi coprono il 90% dei disastri sulla Terra per un totale di 6.767 calamità con più di 600.000 vittime e 4,1 miliardi di persone colpite e lasciate senza casa o con necessità di assistenza. Elt.e virgola piegt.e virgola il caso dell'Emilia Romagna e lt.e virgola barra piegt, lt.e virgola piegt, lt.e virgola barra piegt, lt.e virgola piegt, lt.e virgola barra piegt, l'alluvione di maggio 2023 è stata causata da piogge fortissime e prolungate. Un impatto devastante se pensiamo che in un giorno e mezzo è stato registrato oltre il doppio dei rovesci di tutto il mese di maggio. Il ciclone è partito dal Nord d'Africa e ha colpito prima la Sicilia e poi l'Emilia Romagna, favorito anche dall'innalzamento dei mari e dai forti venti. Non un caso isolato, purtroppo, ma un fenomeno intensificato dal cambiamento climatico e dall'opera dell'uomo, che apre scenari preoccupanti. Anche per il futuro e soprattutto per la frequenza e la forza. Secondo gli esperti, senza il cambiamento climatico causato dagli esseri umani questi eventi estremi sarebbero accaduti una o due volte ogni secolo, mentre ora li stiamo osservando a distanza di pochi anni l'uno dall'altro. Inoltre, la prolungata siccità che aveva colpito l'Emilia Romagna ha seccato il suolo, che poi è stato bombardato dall'acqua ma senza avere la flessibilità necessaria per assorbirla tutta. Ed ecco il fango solidificato che questo evento ha lasciato in eredità, mostrando uno scenario desertico dopo le piogge incessanti. La tecnologia per contrastare le alluvioni problemi che purtroppo non faranno che aumentare, ma abbiamo la tecnologia che può darci una mano. Alcune startup, infatti, stanno testando sistemi predittivi basati su intelligenza artificiale e big data analysis che possono anticipare di diversi giorni l'arrivo di un'alluvione o di un'esondazione. Con queste soluzioni, l'intelligenza artificiale analizza i dati pubblici come previsioni meteo e immagini satellitari per poi fornire un modello idrologico e uno di inondazione, così da prevedere quanta acqua c'è in laghi e fiumi e quali saranno le aree più colpite. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo o sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.com o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A. 6B. Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict.com nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.